Siamo qua in municipio a Riva Ligure insieme al sindaco Giorgio Giuffra e insieme a Filippo Pergola. Filippo Pergola è un professore di archeologia universitaria sia al Vaticano che a Nizza, professore decano. A breve in atto c'è un progetto trasfrontaliero che riguarda l'archeologia tra il comune di Riva Ligure e quello francese di Roquebrun-sur-Argent. Scusate la pronuncia. Ecco, chiediamo prima al sindaco di cosa si tratta questo progetto trasfrontaliero e poi c'è anche un congresso e di questo ce ne parlerà il professore. Un progetto che mette insieme le nostre risorse archeologiche, mette insieme faccia rete tra due comuni vicini e allo stesso tempo lontani che però hanno un unico grande piacere, quello di rivalorizzare la propria storia, la propria cultura e la propria tradizione. È un progetto molto ambizioso che vede come partner appunto il comune di Roquebrun-sur-Argent e anche la municipalità di Saint-Tropez, quindi una nota località balneare francese, che questo impreziosisce ulteriormente quello che è il nostro progetto. Un progetto che vada a recuperare la valorizzazione dei scavi archeologici. In questi anni, anche grazie al prezioso sostegno della Fondazione Lamboglia e dell'Istituto Pontificio di Archeologia Cristiana, sono stati fatti numerosi passi avanti. L'amministrazione con risorse proprie ha aperto lo spazio espositivo multimediale dedicato agli scavi di Costa Balene e Capodonna. Oggi vogliamo fare un ulteriore step, uno step che guardi al futuro e che pensi a una valorizzazione e mette in rete tante località che hanno le stesse peculiarità. Quindi da parte nostra c'è la massima volontà di credere in questo progetto, faremo i nostri passi. Per quello di nostra competenza, oggi abbiamo preso con piacere, anche attraverso la responsabile dell'Interreg della Regione PACA, di quelli che possono essere le opportunità sulle quali lavorare. Credo che saranno opportunità che il Comune di Rivaligura non perderà e non lascerà nulla di intentato per portare a compimento. Ecco, Professor Pergola, un momento segnante di questo progetto trasfrontaliero sarà un convegno. Quando sarà questo convegno e di cosa si parlerà? Allora, questo convegno avverrà a fine ottobre, dal 21 al 26 ottobre. Il tema sarà i siti di altura, ma anche la cristianizzazione dello spazio trasfrontaliero, quindi Liguria, Piemonte, sud della Francia, che però abbiamo voluto allargare, avendo avuto questo finanziamento europeo, più o meno all'Europa del Nord, all'area danubiana, approderemo in Asia Minore, approderemo in Grecia, nelle isole del Mediterraneo, in Africa del Nord. Quindi per così fare chiarezza su questo patrimonio comune mediterraneo, anche qualcosa che sono le radici che uniscono, non quelle che dividono. Proprio nel momento in cui, diciamo, finisce la religione romana e si mettono in moto, in qualche modo, il cristianesimo e l'islam insieme alla religione ebraica, che in qualche modo possiamo dire loro madre. Quindi c'è anche questo scopo di volontà, di pace nel Mediterraneo, che partirà da questo congresso, che è nello spirito di questo congresso. Quindi che si svolgerà in gran parte, appunto, tra Aroquebrune-sur-Argence, che avrà una giornata intera qui a Riva Ligure e questo è un punto di insieme di arrivo e di partenza. Ecco, un congresso che io sogno da vent'anni, scavo a Riva Ligure con una grande interruzione dal 1987, ma questa è un'apertura verso il futuro, ecco, verso qualcosa di più ambizioso anche dopo la bella realizzazione dello spazio museale da parte della giunta guidata dal sindaco Giuffra, anche quello di finalmente aprire definitivamente al pubblico il sito del complesso paleocristiano unico, proprio veramente in tutto lo spazio trasfrontaliero, per dimensione e per importanza, che è sul comune di Riva Ligure. Dove si terrà questo congresso? Allora, questo congresso si terrà essenzialmente a Aroquebrune-sur-Argence, per comodità, appunto, anche economica, di spostamenti e di viaggi. Una giornata intera, che sarà il mercoledì, credo, 23 ottobre, sarà tutto a Riva Ligure, quindi con insieme comunicazione scientifica, ma soprattutto visita del museo e del sito archeologico, e una conferenza pubblica la sera, quindi sarà la grande giornata a Riva Ligure, ma essenzialmente sarà a Aroquebrune-sur-Argence, perché appunto, venendo studiosi da tutta Europa, bisogna concentrarli in un posto unico. Grazie mille. Grazie a tutti.